salve ragazzuoli oggi vi racconto dig dug per il commodore 64 ma non la versione che conosciamo tutti quanti bensì una nuova versione migliorata che uscita all'inizio di quest'anno 2024 ad opera di lc games che ha realizzato questo port migliorato per il biscottone del classico arcade di namco uscita nel 1982 convertito per una infinità di console e computer sistemi casalinghi e lc games ha deciso di fare questo nuovo port migliorato andiamo a vedere com'è lc games di questo port esistono due versioni diverse questa è la versione base in cui ci sono i quattro schemi del gioco arcade che si ripetono uno dopo l'altro oltre ad altri altri schemi nuovi che sono stati creati e poi c'è anche un'altra versione in cui mi pare che ci sono tutti schemi diversi allora bisogna scegliere la difficoltà difficile master addirittura hard expert master no ne facciamo normal andiamo a vedere com'è la musichetta è proprio uguale a quella del bar ok anche mi pare il gameplay è molto molto simile mi pare che l'omino si muova proprio come come al bar l'unico problema è che mi pare che ci vuole un joystick a quattro vie un po' come al bar quindi giocare sul pad magari non è la cosa migliore questo adesso però va a scappare e noi lo freghiamo quindi da queste prime battute devo dire che il port è veramente veramente fatto bene piace molto fatto benissimo molto molto fedele all'originale poi non sono un esperto di big dag quindi non vi so dire bene se tutte quante le meccaniche sono state porca vacca rispettate va a cagare vaffanculo eh sì e il col pad non è che si gioca proprio il meglio ci vorrebbe un joystick a quattro vie ok ok ammazziamo il draghetto ecco ma ma bruciato bisogna fare attenzione al fatto che i mostri quando passano attraverso il il terreno sono praticamente invisibili non possono essere colpiti bisogna farli uscire allo scoperto insomma in una zona già scavata per poterli uccidere ammazzare questo qui alvo è vedete ci vengo è la miseria ma quanti sete ho eh troppa gente eh mi sembra un po' difficilotto un po' più difficile dell'arcade eh vabbè allora proviamo a mettere il nome credo che registri pure gli ice core quindi anche questo è un bene infatti vedete se venga i score allora proviamo a rigiocare facendo un po' meno schifo dell'altra volta allora riproviamo andiamo a ammazzare subito il drag ok quanto sto questo vorrà scappare eh però stavolta non faccio il tempo a prenderlo o forse si vediamo forse ce la faccio la cosa strana di questo gioco è come come tutti sapete che la musichetta va al passo con i passi dell'omino quindi se l'omino si ferma non c'è la musichetta quando cammina la musichetta si attiva allora via tempo a tempo adesso questo è prova ad andarsene e noi lo freghiamo al volo tiè becca la cazzarola ok e faffa il cuore ok forse ce la facciamo no ok adesso non riuscito a passare pure il terzo quadro non ci sono i fiorellini che indicavano i quadri però vabbè è una differenza proprio minima allora andiamo a ammazzare questo al volo bene mori ammazziamo pure questo prima che ci spari bene adesso questo se ne andrà e io l'aspetto sopra no non se ne va eccolo qua beccato ok e quanti siamo e la miseria ladra via 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 speriamo che riesco a ammazzarne qualcuno ecco ammazzati tutti e due è bene prendo anche il bonus ce l'ho fatta inaspettatamente sono arrivato al quinto quadro allora andrò a ammazzare questo col sasso boing via 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 no vai ah non l'ho ammazzato ok ok adesso questo proverà a fuggire suppongo no spara eccolo qua fregato quindi è graficamente vedete è fatto molto molto bene è molto divertente fedele all'originale insomma una conversione eccelle eh cazzo è cazzo è morto no forse no forse sì via 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 ah proviamo a tirargli in testa un sassone vediamo se ne riusciamo a ammazzare un bel po via 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 vai vai viuu vai ho fatto una strage ho beccato pure la vita vieni qua ho fatto la strage per sasso boom ammazzare pure questo ok quindi dicevo estremamente fedele all'originale ottima grafica ottimi ottimi controlli ottime musichette insomma ecco là una gioia per gli occhi e anche per i pollici fatto veramente bene allora ammazzare questo ok ecco là sono morto via no se riuscivo a sopravvivere non so come però è successo via 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 ok no ecco qua ammazzare pure questo ok forse è un filino più facile dell'arcade perché sono riuscito andare piuttosto avanti mentre ecco appunto non devo parlare perché appena dico queste cose no ecco appunto appena dico queste cose moro ultima vita due mori eeeh eeeh quanti cazzo siamo dobbiamo rifare la manovra di prima vediamo se ci riusciamo ah ammazzati in paio e si mi sa che sono due no è uno solo via 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 ok oh non è mancato niente adesso non è riuscito a passare anche il nono quadro ok adesso i quadri si ripetono sempre uguali se non vado errato eh e la madonna e quanti siamo via mmm troppa gente via ecco mi hanno bruciato le nautiche ok eeeh game over va bene ok direi che per questo gameplay può anche bastare così adesso ho fatto un bel po' di punti eh fatemi mettere il nome eeeh Ale quindi eh complimenti agli sviluppatori LC Games perché hanno fatto veramente un ottimo lavoro eh come ho detto nella descrizione del video c'è il link per andarlo a scaricare provatelo è gratuito eh fate sapere ai sviluppatori le vostre le vostre opinioni dategli dei feedback per migliorare questa conversione che comunque secondo me è già di per sé molto 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 bella nel complesso devo dire che è stato molto divertente ci vediamo alla prossima ciao ciao Grazie a tutti